Allora, hai avuto modo di rifletterci? È zeppo di Chiralium, ma chi è dotato di Dooms lo può portare. È tutto quello che ti serve per ricollegare il mondo, per renderci di nuovo uniti. Sono un corriere. Non mi interessa collegare il mondo, né creare dei nodi. Ma farò il necessario per aiutare Amelie. Sam, ascolta. I terminali che i seguaci di Amelie costruirono nelle città che attraversarono andando verso Ovest sono definiti nodi. L'infrastruttura esiste, ma la rete chirale non è operativa. In questo momento può solo trasmettere comunicazioni vocali, talvolta via cavo, talvolta wireless e piccole quantità di dati. E se i dati non sono immagazzinati in loco, i chiralgrammi non appariranno. Amelie e gli altri membri della Bridges che hai visto non sono che chiralgrammi generati da dati locali. In caso non lo sapessi. Tu non devi far altro che trovare un nodo, collegare il cupid e ristabilire le comunicazioni chirali. Una volta collegato il cupid al terminale, potrai dare avvio a un'enorme e istantanea trasmissione di dati con la rete VUCA. E in un attimo, saremo di nuovo connessi non solo con gli altri, ma con il passato. Tutti i dati frammentati e perduti saranno raccolti e ricostruiti. Sarà come riportare in vita i fossili dei dinosauri. 4 miliardi e 600 milioni di storie della Terra. Tutta la conoscenza perduta dall'avvento del Death Stranding sarà di nostro dominio. Ed è così, amico mio, che lo sconfiggeremo. Una volta ristabilite le comunicazioni chirali, generare chiralgrammi non sarà difficile. E potrai usare le stampanti chirali. Così, tra non molto, potremo inviare... ... ... ... ... ... Grazie a tutti